e bello a tutti ragazzi sono Manu e oggi vi parlerò di Monster Hunter per PlayStation 2 uscito nel 2004 in Giappone e nel 2005 in Europa pubblicato da Capcom il titolo è un action RPG anche se tipo potrebbe anche essere definito neanche slash o come cavolo vi pare comunque delle meccaniche veramente diciamo non so come definirle sinceramente perché sono strane più che altro è un gioco unico da questo punto di vista dato che non si vedono molto spesso giochi nei quali per attaccare devi premere la levetta destra del controller la levetta no? se dice la levetta penso che si tu la devi girare da seconda di come la orienti il personaggio tira attacchi diversi carica l'arma la sfotera spara è una cosa veramente complicata imparare i pattern delle animazioni e delle combo perché diventi stupido dopo un po' Monster Hunter ci mette nei panni di un cacciatore un cacciatore appena arrivato in questo villaggio inizialmente che poi dovrà farsi strada tra i ranghi dei cacciatori quello che sono insomma uccidendo sempre prede più grandi inizialmente andremo in giro a tipo picchiare bufali e cinghiali per poi darsene di santa ragione con draghi più grossi di noi e ognuno con una particolare edà diversa tipo magari quello la che non lo so urla e ci fa diventa assordi quello che fa i flash e il personaggio nostro si incoglionisce e così via purtroppo il titolo se non viene giocato in multiplayer perde del suo fascino perché comunque sia è stato pensato molto per il multiplayer e si vede io sono stato sempre sfigato da questo punto di vista e non ci ho mai giocato in multiplayer l'unica volta che ho provato a giocarci mi hanno detto che i server erano chiusi proprio nel mese in cui mi avevano attaccato internet avevano chiuso i server quindi evviva la fortuna la mia fortuna poi ho cercato di recuperare i titoli per psp e ho scoperto che la mia psp aveva il wifi disabilitato quindi non potrò mai giocare a monster hunter in multiplayer nonostante ciò mi piacque un casino lo stesso anche se viene spesso massacrato dalla critica come gioco comunque sia se siete amanti della caccia del non lo so dell'rpg e di tutte queste cose pazze enormi e giganti io ve lo consiglio come sempre ragazzi cliccate su tutti questi magici pulsantini andate a vedere il secondo canale visitate il nostro ragazzo e bella la nostra pagina facebook e andate a vedere lo scorso retro flash io come sempre vi saluto e bella per voi grazie a tutti